scaloppine di pollo al prosciutto funghi e formaggio semplici e perfette per una cena in famiglia per prima cosa inferina le fettine di petto di pollo sciogli un po di burro in una padella rosola la carne 4 5 minuti gira le fettine di pollo e aggiungi il vino copri la carne con le fettine di formaggio aggiungi il prosciutto e un altro po di formaggio copri la padella e cuoci ancora per qualche minuto per far sciogliere la provola quando il formaggio inizia a filare unisci i funghi tricolati servi le scaloppine di pollo al prosciutto funghi e formaggio buon appetito